E' un incontro molto particolare, un incontro con chi a piccoli passi ha fatto tanta strada e questo è il claim che rappresenta questa azienda che nell'evoluzione dell'abitare ha trovato il suo successo perché questa è l'Elios Casa, è la casa in legno e per chi pensasse alla vecchia baita abolite questa idea, questa è la casa del futuro e noi ve la mostriamo Simeone Bonato, responsabile vendita Nord Italia della Elios Casa, un modo di vivere nuovo soprattutto un modo di vivere un ambiente e la propria casa in maniera estremamente green è quello che offre Elios Casa Noi proponiamo la casa in bioedilizia, in legno esattamente, perciò una maniera di costruire completamente diversa dal tradizionale che offre intanto una solubilità, un modo di vivere diverso, perciò stando attenti alla natura, al paesaggio, a quello che può essere l'ambiente e poi costruiamo in legno, perciò sappiamo che è un materiale che offre cose molto importanti, una stabilità, offre la possibilità di avere sempre diciamo una casa che è isolata con l'esterno, perciò salubre vuol dire anche che è calda d'inverno, fresca d'estate Perché fino ad oggi non ci si era mai rivolti a questa tipologia e soprattutto a questa modus, a questa formamentis della casa in legno? Certo, perché ancora la clientela non è abituata a parlare di queste cose e forse anche i progettisti, i geometri, gli architetti, i designer non capiscono che la casa in legno è la soluzione per il futuro, insomma, perché mette insieme tante cose la vita dell'uomo ma anche la vita della natura, perciò nel rispetto dell'ambiente I paesi come la Germania, la Svizzera, l'Austria, dove là si costruisce circa il 50% di biodiversità, noi siamo all'uno e mezzo perciò dobbiamo informare le persone, anzi il consiglio è anche per gli indecisi, le persone che si stanno avvicinando perché vogliono costruire di spendere un tempo per parlare con tecnici del settore, possiamo essere noi o anche i nostri concorrenti in modo di sapere perché investire in biodiversità e in legno Noi abbiamo dei punti di forza che diciamo sono, innanzitutto offriamo i chiavi in mano cioè se il cliente è già in possesso di un terreno e gli manca la progettazione, noi possiamo dare la progettazione della casa noi non vediamo case modello, cioè standard, standardizzate ma le facciamo su progettazione e questo diciamo fa la differenza rispetto anche alla concorrenza Poi il chiavi in mano vuol dire che noi partiamo da inserire diciamo la casa all'interno di un ambiente che possono essere anche gli arredi, le luci, lo studio dei pavimenti, le decorazioni Abbiamo anche un circuito di immobiliari che con noi cercano i terreni nell'eventualità che il cliente fosse interessato però mancasse di questa cosa che è fondamentale noi possiamo aiutarlo anche in questo Quando avviciniamo un cliente che vuole con noi progettare o avere un preventivo diciamo ha un riferimento che è una persona che può diciamo seguirlo in tutto questo passaggio diciamo da vedere un terreno a vedere una casa finita chiave in mano Quanto il rapporto tra una casa normale, definiamola così, e una casa in legno di eliasca? Noi dobbiamo guardare anche il risparmio perché anche se fossimo a parità di costi cioè io con una casa in legno risparmio risparmio perché spendo meno in riscaldamento, in raffrescamento eccetera Comunque diciamo noi offrendo i chiavi in mano partiamo anche da case dove il valore commerciale metro quadro è sui 1200 metri per una casa diciamo da capitolato www.elioscasa.eu il punto di riferimento Elioscasa in via Serena numero 7 a San Martino Bonalbergo www.elioscasa.eu